Un primo tempo in cui sicuramente il Chieta è giocato meglio, però nella ripresa voi avete spinto parecchio per i primi 15-20 minuti, volevate a tutti i costi riaprirla? Sì, infatti abbiamo fatto un ottimo secondo tempo, dobbiamo ripartire da là, giovedì per fortuna si gioca subito, quindi ripartiamo da questo secondo tempo che è stato fatto con intensità e convinzione. Che cosa in particolare secondo lei non ha funzionato nella prima parte di gara? Naturalmente sapevamo di giocare con una squadra importante, quindi con grande individualità e forza fisica, abbiamo fatto degli errori che hanno poi compromesso quello che è stato un primo tempo, per il resto poi la squadra nel secondo tempo ha fatto un'ottima partita, è stata corta tra i reparti, ha fraseggiato, ha calciato verso la porta, abbiamo messo dei cross, dei traversoni che sono stati molto pericolosi e dobbiamo ripartire da quello. Nel corso di una stagione ci sono dei momenti critici, questo è un vostro momento critico perché credo che nelle ultime sei partite è soltanto due punti, se non ricordo male, però insomma la salvezza è a portata di mano, però bisogna lottare. Noi dobbiamo capire tutti insieme che questo momento critico deve essere la nostra forza, dobbiamo starci comodi in queste ultime sei partite, dobbiamo starci comodi perché sappiamo che non era una passeggiata, è difficile, perché quando giochi per quelle posizioni dal basso è molto difficile, però noi siamo convinti che tutti insieme faremo un grande percorso e soprattutto ripartiamo dalle cose che ho visto bene oggi nel secondo tempo, e poi io sono qua da due settimane insieme allo staff e stiamo facendo un grande lavoro, i ragazzi ho trovato a grande disponibilità, ripartiamo forte da questo secondo tempo, sappiamo che nelle ultime sei giornate sarà fra per entesi una battaglia domenicale, non sarà facile, quindi saremo lì sul pezzo e ce la giocheremo per raggiungere il nostro obiettivo, perché siamo convinti che lo possiamo raggiungere.